Lei è un uomo del sud? Sì Alzi più la voce per favore Sì E' venuto liberamente a fare questa intervista? Sì A che cosa pensa quando tocca la plastica? Penso a Dio Ripeta Penso a Dio Ok Butti via la plastica Che rapporto ha con la sua analità? Sofferenza Lei ha mai avuto rapporti di tipo omosessuale? Ovviamente Come si chiama sua nonna? Assunta Sua nonna è del sud? Sì Ci può dire la regione? Terra borbonica Senta Se Assunta sapesse che lei ogni tanto Per sfizio, per piacere Lo prende nel sedere Cosa direbbe nel suo dialetto? Maron Quindi per lei non è un problema Sentire diciamo La barba Mentre le viene praticata una fellazio Non le dà fastidio? No Mi fa solletico Che rapporti ha con la chiesa cattolica? Nulli Lei è stato toccato da piccolo da un prete? Lei crede in Dio? Qualche volta Cosa significa qualche volta? Quando? La mattina alle 7 E alle 8? No Che lavoro fa? Mi scusi? Tram diario Guido il tram La mattina alle 7 La mattina alle 8 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 La mattina alle 8